Il cavallo si sede per 2.000 metri, giusto? Come? Il cavallo si sede per 2.000 metri? Per 2.000 metri. Ma poi per 2.000 metri, 2.000 metri o 6.000? E' tutto meglio. E' certo. Per 2.000 metri. Poi si fa 2.000 metri, 2.000 metri, non mi interessa. E' meglio, tu per questo cavallo che hai, quanto te ne hai peggi questo pezzacero? Allora io un po' ora mi ha io 8. Perché tu vai lento, giusto? Tu vai lento con questo, non cammina buono. No, no, va bene, così io te lo mando, così almeno lo vediamo, così partiamo di nuovo da capo, con un cavallo buono buono. Allora tu vieni bene, vieni qui qua. Ti ripengo, ti farebbero, vengo di persona io. Va bene, te lo dubbi, ti farei un cucchiaio, capito? Va bene, allora ti senti visto, perché tu almeno ti farei anche io e io ci farei. Ci risentiamo domani, ci risentiamo. Va bene, no no, ciao ciao. Va bene, ciao. Ciao. Ciao ciao.